Ha già repartito il programma natalizio, già con i mercatini in piazza Duomo ed un'offerta che vuole soddisfare tutti i gusti. Nei giorni scorsi è stata la volta del tradizionale concerto di Natale tenutosi nella Sala degli Specchi del Palazzo di Città Giarrese. È stata la Bross Music Italia ad offrire, come ogni anno, uno spettacolo musicale che ha proposto un repertorio classico di musica colta, apprezzato e applaudito dai presenti incantati dalle note suonate dalla pianista armena Zaruhi Topcian e dalla potente voce del soprano Alina Susol. La giovanissima soprano ucraina di origini polacche inizia lo studio del canto all'età di soli 4 anni sotto la guida di Irina Dolia, nota cantante popolare ucraina. A 12 anni prosegue gli studi nella scuola musicale della propria città per poi diplomarsi nel dipartimento di canto del collegio musicale Stanislav Lutkevich nella classe del professor Taras Rizniak, solista del Teatro Nazionale dell'Opera di Lviv. Ha partecipato a parecchi concorsi ottenendo nel 2011 il Grand Prix al concorso Star of Planet di Yeremke in Ucraina. Ha partecipato alle manifestazioni Back Marathon nel 2015 e Symphony No. 9 Back nel 2016. Ha preso parte a numerosi festival in Polonia, Bulgaria, Ungheria e Ucraina, ottenendo ovunque, nonostante la giovane età, unanimi consensi per bravura e professionalità. Alla sua prima tournée in Italia fa tappa a Giarre, dove si è esibita con un vasto repertorio che spazia dal Panis Angelicus di Cesar Frank, passando da Brahms, Back, Schubert, Vivaldi, per chiudere con Mozart e Leontovic. Rosario Bella ha spiegato ai nostri microfoni i motivi che portano la Bross Music a proporre e prediligere sempre artisti giovani ed emergenti, scelta che è allo stesso tempo scommessa e garanzia di successo. È ormai una tradizione da parte nostra dare questo concerto nel periodo natalizio con giovani cantanti che già sono in carriera e che sperano di poter fare anche qualcosa in Italia. Noi siamo propensi sempre ad avvarerci di cantanti e di artisti giovani perché il futuro della musica è nelle loro mani. Grazie. Grazie. Grazie.